Sei pronto per il super pronostico Juve Fiorentina Gameplay? Dai è così, sigla regà, ci vediamo tra poco Eccoci qua Bella a tutti dal Gabbone come al solito Il buon Fabio vi saluta oggi è di poche parole, sbadiglio C'ha una voglia questo, ce la fai? E' per questo che ti ho dato la Juventus Allora per chi non lo sapesse, domenica gioca Juventus Fiorentina Sabato Bene, cominciamo bene, va bene Sabato gioca Juve Fiorentina, ovviamente noi questa settimana facciamo Juve Fiorentina Perché è il big match di serie A, pronostico ovviamente E poi tutte le settimane vorremmo fare ogni volta il miglior pronostico della settimana Quindi che ne so, gioca Juventus Inter, proporremo prima che comincia la partita Juventus Inter C'è stata una cazzo di zanzara Quando mai Però devono arrivare i mi piace A parte quello, ovviamente poi se ci sarà big match della Roma Faremo quello della Roma ovviamente Però noi siamo tifosi della Roma Però cerchiamo di fare una cosa il più ampia possibile Va bene? Che accontenti tutti Ok Io mi sono preso la Fiorentina come potete vedere dalla formazione Sono leggermente più scarso di te Ma cercherò con le unghie e con i denti di portare a casa un pareggio Un pareggio Ci proviamo Quindi, allora Le formazioni le abbiamo aggiornate Cazzo sto di curio Le abbiamo aggiornate Siamo su PES 2016 per chi non l'avesse capito Perché ancora non sono usciti quelli nuovi Poi ovviamente li faremo su PES 2017 o FIFA 17 Fatecelo sapere nei commenti Io mi sono tenuto a quella che potrebbe essere la probabile formazione E io pure No, tu te la sei rifatta a cazzi i tuoi Ti sei fatto il 4-3-3 Eh vabbè, mi trovo bene con il 4-3-3 Dai, su Non rompi i coglioni Vabbè Cominciamo, forza Dai, pronto Se comincia Eh, che tu ti è Guarda come cazzo gira palla Mamma mia Non me dai tre Oh Eeeh C'è bravo Eh, che cazzo C'è bravo Cazzo di passaggio ho fatto Iguaino subito Mamma di bala Oddio subito Ehi Ma che cazzo hai combinato Eh, troppo Eh, sì Maronna santissimo Va bene così Danialvesh Ups Sincarta Sbabbacar Oddio Ma che gollo ho fatto Cazzo Maronna Hai segnato da un passaggio Che cazzo è successo qua Tiro al volo La madonna Questo è il terzo account Gesù Cristian Guardate che cazzo De colla Che è uscito Foris Babacar Madonna La Fiorentina Passerà in vantaggio Con un lancio Guarda che roba Poooo Li mortacci Madonna mia Ragazzi Buffon è morto Nel frattempo Non ci credeva manco Guarda che roba Oddio Oddio Bellissimo Ma questi sono gol Che escono una volta Nella vita Va bene così Bello Bello 1-0 Fiorentina 0-1 Dai La Juventus Sei in bambola Pepito Rossi La sciavatta Buffon Para Incredibile Lo sai che potrebbe Essere secondo me Perché abbiamo fatte Noi le squadre modificate Quindi magari Ci sarà qualcosa Che non quadra Eppure che te sta A dormire in piedi Va bene così Allora Cerco le capocce Di qualcuno Che non ci stanno Pasquale È lui Oh pare Cristiano Ronaldo Il cross Oddio 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 Aspetta Ci sto a capincazzo Va bene La Fiorentina controlla il gioco Eh ma Per quanto puoi controllare il gioco Oddio Mamma mia Come esce la Juve Ho capito Davidiccio a story Io butto via Non è che me fido tanto Allora Babacar L'ho messo punta centrale Eh L'ho preferito L'ho preferito A Kalinic Vabbè Kalinic Qua fa cagare Sì perché Babacar Vaia Movi da fa sto passare Ci ha messo 20 Oddio Mamma mia No È fallo Per Pepito È fallo È fallo Che cazzo Eccolo Dai che faccio ripartire l'azione Pepito Se stava a fare Zacanelle Mamma mia Cerco il tiro Madonna Ma comunque c'è qualcosa Che non va Perché a me i giocatori Vanno a puttanelle A te Cerco ancora Crozzo Qualche capoccia Fatta bene Guarda che cazzo Me stanno a combina Questi qua Ma che era Oh Ha fatto quadrato X Però me l'hai levata Vaffanculo Emo sto buchetto Chi cazzo lo chiude È Gonzalaccio Core Spigne Gonzalo Che cazzo gli faccio Core troppo Iguain Core troppo 1-1 Al primo tiro in porta La Juventus Subito Pareggio Con il gol all'esordio Di Gonzalo Higuain Oh Marcatori comunque Potrebbero essere probabili Eh Babacara Mi sa che manco Gioca titolare Va bene così Che volevo fa Davo pure riguarda Sì sì Voglio rivedere Ho fatto un bel tiro Taci tua Mai come il mio prima A incrociare Gonzalo Te sinistraccio Va bene così Però con Babacara Essendo più scherzo Era molto più difficile Ah sì 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 Mo so cazzi mia Prova la giocata Nello spazio E non me dai tregua Eccolo Recupero del possesso Oh Questo è fallo Oh e non me sta da cazzo Higuain Prova Higuain Al centro Al centro Che tira 2 a 1 La ribalta subito La Juventus Sta cazzo De Juve È troppo forte Alla fine del primo tempo Non me l'ha aspettato Non me l'ha aspettato E ho capito Che cazzo vuoi Dani Alves Stiamo a giocare Contro Cicciolino Chi era quello Guarda che roba Non basta la protezza Di Babacara La Fiorentina Sì Viene primo tempo Subire la Juve Immediatamente Con due tiri in porta Ma hai rotto il cazzo Quattro tiri a tre È incredibile Secondo tempo immediatamente Sto a perdere Stava a vince Mamma mia la Juve Come gioca ragazzi Di Bala Paolo Di Bala 3 a 1 Ma hai rotto il cazzo Ma hai rotto il cazzo Non sei piano Tre tiri tre golle Tre tiri tre golle Ma non sei piano Non riesco a stare dietro Cioè lui basta che va dritto Manifesta la superiorità Della Juventus In questi minuti Sì A cavallo tra la fine del primo tempo Eh ma stavo a comandare io però Fino a poco fa Sbabbacara Oh buffoni Mi ha già sto buffone Buffoni in calcio d'angolo Io ti ho detto Io stavo a giocare il pareggio Se continua così Non so come va a finire Va bene Ci prova la Fiorentina Non si arrende Calcio d'angolo Non mi arrendo no Se no che cazzo sto a giocare Pasquale la butta al centro Ma per chi Non la volevo mica da là io Ha fatto una cosa strana Gonzalo Rodriguez Addirittura si parte in avanti Oddio E che culo Chi ne direbbe Se la mandassi a fare in culo Signor Garrison L'evento si scioltezza Si a cacarella a fischio Esatto Il lancio lungo No è inutile Iguain Cioè tu basta che lanci lungo E pedalare eh Iguain Calcio d'angolo Manifesta superiorità Sembrava che stavo io A essere superiore In quel momento Vaffanculo Vabbè Pianic Dalla bandierina Capirai Dai è così Al centro Che cazzo hai fatto Guarda Pure l'angolo Gli ho regalato Mannaggia la puttanazza Eh che entrava eh Ma che entrava Ci riprova Pianic Dalla bandierina Il cross al centro Ma che cazzo A chi cazzo La stava Eccolo Trombovic Guarda quanto core E no E no Prova il tiro Buffon Se puoi fare i cambi Che cazzo Te vuoi che te metto No dimmi Ma non lo so Oh Che è qua Non hai mai rotto il cazzo Ma io l'avevo angolata Qua R2 Ma come cazzo È possibile Cioè io avevo provato X in quarto Sì ma io l'avevo Cioè non è possibile Vediamo quale compagno Vabbè E che cojoni L'anticipo L'anticipo Non è male Quello ho rivelato Il mister ieri Già detto che è meglio La madre Prova la Fiorentina Prova la Fiorentina Niente La Juventus Si copre benissimo Che tu dica a fa Prova di impostare Ancora un'azione La Fiorentina Oddio Il passaggio è filtrante Filtrantissimo Ma quanto cazzo Ci mette Mortacci De Borca Valero Se stavo con qualsiasi Altro giocatore Avevo segnato Oh e che cojoni Ma è possibile Che sta tutto a muro Va Oh No Non è possibile Si salva ancora La Juventus Ma che culo c'hai Ma questa Cioè non è La cosa mia Questa è la Juventus Di bala se ne va Di bala se ne va Ancora di bala Eeeh Vaffanculo Se l'ha allungato Bonucci No ma come cazzo Sei passato Rosico Rosico Ti stacco i piedi Mamma mia Ci metti troppo tempo Quanto cazzo di tempo Ci mettono No era fallo Non mi ha dato fallo Eccolo 3-1 Ma vaffanculo Ce va pure rima Voglio Vedete i dirimi Bella Siamo visti Non è possibile Non è possibile Voi lo sai Che vinco così Fatta la cacca Il culo si sciacqua Bidi 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 Che poi io E' la Juve che ha vinto Questo era un pronostico Quindi ha vinto la Juve così Mica Juve Vincerà la Juve così Pari che ha Iguaino Migliori in campo Al debutto Va bene Mentre sgrotti lo dici Se vi è piaciuto E volete Un nuovo episodio Poi li faremo pure Su PES 2017 Pronostici Partite reali Serie A Mi raccomando Mettete un bel mi piace Arriviamo a 300 300 mi piace Prossimo pronostico Ovviamente della settimana prossima Perché mo' giocano tutti i giorni Lo possiamo riproporre Oppure con le partite De Champions Con le migliori partite Della Premier League Perché no? Quello che cazzo Mi pare Fateci sapere Fateci sapere